Da diversi anni lavoro nei servizi per la prima infanzia, ma vivere in questi luoghi educativi da mamma è un'esperienza completamente diversa. Quando ho scoperto di essere incinta ho iniziato a frequentare il corso pre-parto e dopo il parto ho potuto contare sull'aiuto di una persona esperta anche per quanto riguarda l'allattamento al seno. Ho frequentato poi il corso di massaggio infantile e nel tempo mia figlia ha iniziato a frequentare il centro per bambini e genitori e infine il nido. Mi sono reta conto di aver vissuto questa esperienza in maniera completamente diversa. La maternità ha cambiato il mio modo di vedere le cose. Le piccole paure, le gioie e le altre emozioni vissute come mamma mi accompagnano anche nell'ambito professionale. Ciò che finora avevo vissuto con quotidianità nell'ambito professionale insieme a mia figlia è un'esperienza nuova, emozionante ed unica e mi sono sentita più empatica nei confronti degli altri genitori. Questi servizi educativi, questi luoghi educativi hanno acquisito maggiore valore e una nuova consapevolezza.